Questa zona è la quarta, a qualsiasi è il luogo che è più sicuro. Il luogo in cui è più sicuro, nel momento in cui c'è un maltempo speciale, la quarta è la quarta, per la matta, è il luogo più sicuro, quando la punta di con, e l'auto è sentita in qualsiasi è il luogo, che è il luogo di rubber. La quarta non può passare e non può affettare il luogo facilmente. L'altro non può essere più sicuro, naturalmente, di un veicolo. E' il luogo che ci può informare, dato, cose in exclusiva, che ancora di nuovo, non è il luogo. La quarta è la quarta, la quarta è la quarta, è la quarta notte, la quarta è la quarta, la quarta è la quarta, la quarta è la quarta. Questa è la quarta, è un pot, un pot, un'elettricionante e un monstruo. Il powerball è la quarta notte, nessuno non ha la quarta, e la quarta notte è la quarta, la quarta notte è la quarta notte. Il giorno 10 è il giorno 10 e si può fare 435 milioni di dollari. Un'elettricionante, due'elettricionante, cinque'elettricionante. E se, naturalmente, è il problema di avere un'elettricionante, la quarta è la quarta, anche con il gruppo di Ghani, che noi, per esempio, in un gruppo di CBA, si compri un lotto, si compri un loterio, quindi ora con la sua fortuna, quindi ora con la nostra parte è il suo posto pot, nel caso di qui, 435 milioni di dollari. Ma un'elettricionante, se non ha la quarta notte, volte per noi, miro a mezz'ora, se non si può, non si può fare un'elettricionante, altrimenti è un'elettricionante, però nel caso di qui, la produzione è la quarta notte è la quarta notte è la quarta notte, la quarta notte è la quarta notte, 18 milioni di dollari. E non è un po' più contento, che è un'elettricionante, e per il motivo che la tendenza è che la maggior parte del mondo non si può fare un'elettricionante, ma se non, ma se non, ma se non, la maggior parte delle persone sono 300 euro, ora che è praticamente, è un po' più costo, ma non è un'elettricionante, quindi non si può fare un lotto, non si può fare un'elettricionante, ma si può fare un'elettricionante, 18 milioni a volte, non si può fare un'elettricionante, e il lotto è 19 milioni di dollari per il fine di sì. C'è qualcosa di strano, anche se passa un'elettricionante, è un'elettricionante, non è un lotteria, ma non è un'elettricionante in nostra vita, ma anche una certa quantità di gente, dentro del gruppo, che compre, non si ricorda, c'è questo caso, in un momento, in un altro tempo passato, anche nell'America, un gruppo sempre è un'elettricionante, un'elettricionante, 4-5 anni è un'elettrica, non si può fare un'elettrica, non si può fare un'elettrica, non si può fare un'elettrica, e l'elettrica, che come passa? Non è sempre un'elettrica, non è sempre pagata, ma si chiama e si chiama a non pagata, 3-4 anni, e si dicevano, premio gordo, da un'esprezio, ovviamente sono 200-300 milioni di dollari. Che cosa succede? Questo anno si paga, indicano che non paga, se non paga, che non paga, che non paga. E si dicevano, è strano, sempre non paga, se non paga, se non paga, se non paga, se non paga in maniera, se non paga in maniera, se non paga in maniera. Non dicevano, se non paga, che non paga, che non paga. E si dicevano, è una crueldade, si dicevano, è una persona che ha fatto un nome, e io che è buon, è lei vieni, con la scala con la scala con la scala, e la mata, tutti che non paga, che non paga nel po' di lei, oppure lo che ci ha fatto, il progetto di varie 10 milioni di dollari. E lo scoge che ha fatto, le concopi che sono le spiegelare, che cosa succede e non sceglie che non paga. questa è una cosa unica e questa è una cosa che abbiamo visto la persona che è una nuova non vi mostrano una figura che è una gente molto colombiana è stata una famosa empresa di aviazione, avianca che è arrivato quasi al giorno e immaginiamo un uomo appena 20 anni è un giorno che è passato in Colombia e probabilmente anche nel mondo che ha avuto il titolo di capitano di una nave grande. Va a vedere. È stato più di un anno che una moglie prima pilotata in aeroporto, e da che molti moglie hanno entrato l'industria aviata. Hanno rappresentato circa 6% di i piloti all'interno. In Colombia, una moglie ha diventato la più più capitana in l'alline del paese, Avianca. Michelle Begge reports. Collombian Linnea Lozano says she was just 14 years old when she decided she wanted to be a commercial airline pilot. Her family supported her, and by age 22, 200 hours of flight school required to graduate as a pilot. She fondly remembers the moment she completed her 15 hours of flying solo. The feeling of flying solo is incomparable to anything else. You only do it in flight school, because when you start working in an airline, you always have a co-pilot, so it is simply unforgettable. But becoming a pilot is far from the average career path for little girls in Colombia, a country where gender stereotypes are common, and beauty pageants outnumber those held just about anywhere else in the world. Lozano, the youngest, says she inherited an independent streak from her mother, who taught her by example not to succumb to a male-dominated society. I thought being a pilot was something different that not every woman does, and something that proved that we can definitely do any job. And in November of 2015, Lozano accomplished what she set out to do. She became Avianca Airlines' youngest pilot captain at age 27. I get certain comments. The majority are positive. Others are negative. People say, seriously, a woman is going to drive? And I answer, actually, a woman is going to pilot this plane. According to the Colombian Association of Civil Aviators, women make up less than 4% of the country's total pilots. I think it's important to incentivize her a little bit. because she needs her mission to be able to be more likely to buy those models, because they can put a lot of choices in the world of color. And also, we didn't have to be a pilot. If you could imagine, with 25 years, 27 years, something happened here. We had a little over a year, two years, but, e naturalmente il capitano di Avianca, di Avianca. Questa è parte di un talento, ma questa è una cosa assombrosa di sua categoria e di sua sorte, un bel caderno di un cast, quindi per un altro motivo stava tocando il piano. Vamo a curato. Questa è una cosa che sta passando a una certa parte del mondo. Rappido, nella parte finale del nostro programma Pabenochi, la nostra mesura è una cotizzazione di crudo per l'Awe, l'Awe e l'Awe, l'Awe e l'Awe e l'Awe, è una cifra, non è una cifra, non è una cifra, non è una cifra, ma è una cifra, per un dólar, 45.72, non mangrovese, 2.47, pérdida, 48.600, pérdida di 2.600 per l'Awe, Thursday 8, Crutile Commodity Prices, essa è naturalmente parte del assunto. E l'Awe e l'Awe e l'Awe e l'Awe, l'Awe, l'Awe e l'Awe, l'Awe e l'Awe, l'Awe e l'Awe, che a ignorare un minuto di silenzio per motivo di la quantità di che perdono la vita del successo in Londra, in Inglaterra. Per un acurato. Precisamente, questo attento causò un polémico incidente durante un partito di fútbol entre le seleccioni di Australia e Arabia Saudita. Antes di cominciare il encuentro, in la ciudad di Adelaida, l'equipo australiano se dispuso a guardar un minuto di silenzio per i seus compatriotas falleciti nel ataque di Londra. Mentre tanto, i seus rivali sauditas continuaron corriendo per il campo e facendo i seus exercicios de calentamento in lo che considera una attitud poco respetuosa. De modo in verità, il reportero avisa che aveva un sorta di falta di respeto per il motivo che il voto rende un sorta di homenaggio e respeto per una certa quantità di persone che perdono con il successo in Londra e in Inglaterra. Un altro caso insolito che ha fatto un luogo, la grabazione mostra il momento che è il tiramento che ha fatto un luogo dentro dell'edificio del Parlamento, che ci passiamo ora anche per l'Iran. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Durante il tipo di successo che nasce qui è l'unico cosa che praticamente non è quasi un luogo. È un luogo che si può scappare la vita e ora si può scappare la vita di altri. Non è un luogo che si può scappare. Non è un luogo che si può scappare il Parlamento in un paese che non è complica. E quasi non è un problema di un paese che si chiama l'Iran. Un minuto e mei passi di due. È il fin di settimana. Sì, lo che noi ci vogliamo. Un altro fantastico fin di settimana. Il weekend 2 di luna numero 6. Ora che noi torniamo la notte. Un altro show che sicuramente non si può perdere. Se vuoi seguire qui. In un'altra parte del mondo. Ma in te trempando. Guarda la Palavra di Dio. Se vuoi seguire il programma. Coffee e Notizia. Un altro programma che si vuoi seguire per concluire la parte del giorno. Noi sempre la notte. Con la scuola qui nella CBA. Il nostro equipo di produzione, Equipo Técnico. Buonas Noches. Moaru. Osteri si avuta una tremenda. Un sensazionale Dio. Avuta 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 Dio. Oh Oh Mi ri лежa. C68 un sounded. Da vitu. Con una serie. Si va. Si va. Si va. A que si va. Tu estás? Si va. Si va.